Allora, arriviamo a Rovigo, quindi la questione lavoro, gianciamoci anche con il discorso pensione. Sì, certamente, allora Rovigo, simile a Belluno, usiamo spesso nelle nostre incontri che facciamo, anche nei nostri seminari, convegni, appunto che il Polesine ha il tasso di anzianità più alto nel Veneto e le pensioni più basse. Guardate, questo non è uno slogan, è una realtà, è una realtà che è difficile da accettare perché la crisi l'ha accentuata, ma ci sono anche degli altri meccanesmi che queste pensioni diventano sempre un po' più svalutate. E' la sua fiscalizzazione, nel senso che bisogna sempre ricordare che il governo Berlusconi con Lega, dopo il governo Prodi, ha aumentato dal 18 al 23% la prima alipota fiscale. Quindi le pensioni da tempo, quando si parlava anche dal pubblico, che sono meno rivalutate e sono più toccate dal punto di vista fiscale, perché poi, tra le altre cose, i pensionati pagano di più, a differenza di qualcuno che ha detto in questi giorni, ma i pensionati pagano molto? Sì, pagano molto, e soprattutto quando sono basse le pensioni, perché se dal 18 andiamo al 23% di brutto, così da anni, vuol dire che c'è un 5% in più che pago, io che ho la pensione bassa, chi l'ha alta, la tassazione a quell'epoca è stata abbassata, dal 43 al 39%. L'altra differenza che fa la differenza è che poi diventa oggetto di negoziazione sociale la nostra attività quotidiana che facciamo con le amministrazioni, con i sindaci, e quando si tratta di la fascia di esenzione dal pagamento della tassazione nazionale. Ci sono delle pensioni, le minime, che non pagano le tasse e i pensionati pagano di più di altri. Quindi 7500 è la fascia di esenzione, fino a 75 anni, 7750 i lavoratori dipendenti a 8000. Quelle differenze lì, nella platea nazionale, vuol dire che pagano di più di tanti altri. Pagano perché non sono state rivalutate in base all'inflazione, la crisi, la pagano di più le pensioni basse e quindi c'è una involuzione del proprio reddito e molto spesso con 1000 euro, quando c'è, si fatica a arrivare a fine mese. Allora, la nostra attività, noi diciamo spesso che il sindacato dei pensionati è un sindacato di storia e di memoria, ma è storia perché ha acquisito tanti diritti. La pensione è un diritto perché paghi, i contributi lo pagano anche le aziende, ovviamente no, e va nel tuo montante poi per calcolarti la pensione. Però è un sindacato anche di lotta, chiaro, perché quando ci vediamo negati dei diritti acquisiti, con fatiche e tante lotte, ovviamente oggi vengono messe anche in discussione. E io porto un altro esempio che ho ascoltato, proprio in queste ultime ore vogliono toccare ancora di nuovo le pensioni di reversibilità. Io credo che questo sia una questione di primaria importanza, non si devono toccare, già sono state toccate perché non si danno più come fino a qualche tempo fa, al 60% del valore dell'importo della pensione che uomo o donna purtroppo non c'è più e quindi si dava questa pensione di reversibilità, oggi si dà in proporzione al proprio reddito e quindi viene abbassato sempre di più. Tra le altre cose la riforma Fornero, come è stata portata ad esempio dal pubblico, uno studio dicono che dal 2012 al 2020 toglie 80 miliardi di euro. Io vi voglio fare solo un semplice esempio. di una donna che ha lavorato 35 anni in agricoltura, fino a due anni fa poteva andare con aprile del 2013 in pensione, legge Fornero, Monti Fornero, non ci va più perché il sistema di calcolo di quella pensione toglie un diritto che era acquisito fino ad aprile del 2013, che non ci va più. Ma io provo a pensare, una donna che ha lavorato 35 anni in agricoltura, ma quel diritto alla pensione credo se lo sia conquistato perché? Perché i periodi di disoccupazione calcolati, perché le lavoratrici, i lavoratori in agricoltura stagionali con 156 giornate, hanno delle giornate indennizzate come disoccupazione in agricoltura, fino al 2012 sono considerate utili per arrivare ai 35 anni, dopo basta. E quindi questa donna, come tante altre persone, non può più andare in pensione, oppure aspetterà i tempi biblici della riforma Fornero. Quindi, ecco, è uno degli esempi. Potremmo prendere tantissimi altri esempi. Chi si trova 6 anni davanti, così di brutto, chi si trova ovviamente penalizzato, magari che ha curato della propria famiglia, bambini portatori di handicap, genitori, familiari ammalati, in periodi di cura questi non servono per maturare il diritto alla pensione. Ecco, qui possiamo spaziare finché vogliamo. No, no, questa è una situazione gravissima. Se vedo cenno anche dietro, vuole intervenire? No, no. Ecco, no, perché mi sembra non è una cosa di scontanti, ce l'hanno sottolineato ed è vero questo fatto qua. State facendo qualche cosa, organizzerete successivamente tutti questi congressi che si sono tenuti, delle azioni anche per questo, perché siccome si parla di ritrattare, si è parlato di job act, per cui rimette in discussione la riforma del lavoro, non si è accennato minimamente al discorso di quanto è stato fatto dalla Fornero con le pensioni, per cui sembra che sia un argomento, un capitolo ormai chiuso, che però in realtà molti stanno già cominciando a risentire le conseguenze. Allora, di decisioni assunte ad oggi non ce ne sono, unitarie intendo dire. Che questo sia un tema sentitissimo, sia stato un tema sentitissimo nelle nostre assemblee di pensionati, non c'è dubbio, è venuto fuori in modo chiaro. Con unitarie lei dice CGL, CISL, FNP, questo vuol dire unitarie? Congressi? Congressi? Si, no, no, ti traduco per chi ci ascolta. Sono dei congressi che lo SPICGL ha fatto con i pensionati, è stato l'argomento insieme al lavoro e alla salute, sono le tre cose su cui si è dibattuto di più, ma il tema della previdenza è stato in assoluto il tema più discusso fra i lavoratori attivi. Allora, che ci sia un problema generale di rimettere mano per reintrodurre le flessibilità in uscita, che tengano conto anche di situazioni come quelle che ricordava la Fornero, che ci sia bisogno di rimettere in mano il sistema perché i giovani e coloro i quali hanno tutti un lavoro discontinuo, per cui dal 2012 si è interrotto anche la valutazione di quel periodo per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e quindi rimettere in circolo, come c'è in quasi tutti i paesi europei, un intervento solidaristico da parte dello Stato perché noi paghiamo le tasse e quindi o perché facciamo lavoro di cura o perché abbiamo lavori discontinui non per scelta, ma perché questo è il lavoro che c'è. Cioè, noi bisogna che alcune questioni di fondo, e la terza è questa, della rivalutazione del potere delle pensioni, aggiungerei persino gli esodati, ovviamente che è l'altro tema drammatico, noi su queste cose dobbiamo riprendere un percorso unitario. Allora, torno a dire, le uniche cose che posso dire adesso è che c'è stata una presa di posizione immediata da parte dei sindacati e dei pensionati unitariamente a Roma. Questo è un tema che va affrontato là, perché qualsiasi modifica a questo sistema tu la devi fare attraverso una legge, ovviamente, per modificare una legge ti serve un'altra legge e non possiamo, qui possiamo arrabbiarci, fare volantinaggio, fare pressione, fare lobby come abbiamo fatto a novembre, per modificare la legge di stabilità e recuperare una parte della rivalutazione che era stata bloccata, però non possiamo modificare la legge, questo è il punto. Io spero che appunto dalla prossima settimana si attivi un percorso, come stavamo appunto dicendo anche qui, che ci porti, seppure gradualmente perché i soldi sono quelli, visto che non vogliono fare neanche la patrimoniale, un percorso che insomma ci consegna di allargare la base imponibile, eccetera eccetera, le cose che diciamo sempre, che ci porti a fare delle azioni di pressione forte, di mobilitazione forte su questo tema. Ecco, questo io posso dire che per dare poi spazio a un altro giro, perché questo è l'altro tema grosso che si è affrontato quello della salute, io posso dire che sicuramente da questo congresso, siccome io farò una relazione, presentando uno stato di attività e di valutazione sulle cose che abbiamo prodotto, la cosa che non è più accettabile è che anche come sindacato dei pensionati unitariamente, come CGL e Cisleville più in generale confederali, intendo dire, non ci si stia mobilitando rispetto alle scelte che questa regione sta compiendo, che è di... mi verrebbe una parola forte, insomma non ce ne accorgiamo, perché noi siamo sempre i primi della classe, no? Se sentiamo il nostro governatore siamo i primi a fare certe riforme, in realtà abbiamo dei grossi problemi di tenuta del nostro sistema di welfare, ne abbiamo affrontato tante volte qui, i dati non fanno altro che confermarci che questo è, le persone nelle assemblee che abbiamo fatto ce lo pongono dal tema dei ticket per dire la cosa più immediata, a quanto ci costa la reta delle pensioni, al fatto che non ci sono più alcuni servizi sul territorio, io penso che o riprendiamo unitariamente come sindacato di pensionati, questo terreno lo riprendiamo proprio, insomma, di brutto, e lo rilanciamo attraverso una campagna di assemblee e di un'azione, perché è un anno che siamo fermi, unitariamente un anno che siamo fermi, o altrimenti lo SPCGL da solo si mobilita, cioè noi non possiamo non rispondere alle 20.000 persone che abbiamo ascoltato in questi ultimi due mesi, e questa è una richiesta molto forte, te lo possono testimonire tutti loro. Sì, infatti voglio sentire, partiamo appunto dal discorso da Belluno, perché il discorso, partendo dalla sanità, perché tutto assieme poi è complesso, quali sono le istanze principali del territorio e che cosa anche realisticamente bisogna intervenire e fare, perché poi i cittadini vedono quello che affrontano nella quotidianità, appunto ticket che sono, che aumentano, che esistono, che ci sono, per una sanità che ha dei tempi d'attesa lunghissimi, quando abbiamo appunto, prima accennavo il discorso del Ministro, il Ministro ha detto che bisogna fare prevenzione, a me viene a sorridere e dico ma come è possibile parlare di prevenzione, non sai che liste d'attesa ci sono per la prevenzione, che costi ha la prevenzione per il cittadino, perché poi i medici tirano un po' indietro, se non sei un caso urgente, insomma, ci sono delle cose che non tornano, allora torniamo sui territori, vediamo un attimo. Ma sul territorio di Belluno, per quanto riguarda la questione delle dotazioni sociosanitarie, ovviamente riflettono quelle che sono le dotazioni regionali, sappiamo che in Regione Veneto oggi si dovrebbe andare all'approvazione del bilancio, sappiamo che ci sono 707 milioni di euro sul fondo sociosanitario, abbiamo chiesto che questa dotazione venga aumentata almeno di altri 14 milioni. Quanti ne servirebbero a Span? Ma se pensiamo a tutta la compartecipazione di cittadini alla spesa sociosanitaria, dai ticket e quant'altro, ma pensiamo solamente alle rette che diceva prima Rita, delle case di riposo, che con l'impegna attiva viaggiano attorno ai 1500 euro mensili, se non c'è l'impegna attiva vai a 2005, oggi è stato un altro argomento di discussione, ma che abbiamo ormai da anni questo momento di discussione, perché le famiglie non ce la fanno proprio più, le case di riposo sono diventate i reparti extra ospedalieri, di fatto le famiglie tengono in casa l'anziano finché diventa grande anziano, cioè a volte di 85 anni, quando arrivano non autosufficienza, a quel punto, come dire, e solo a quel punto, se ce la fa la mette in una struttura residenziale, se lo tengono in casa per la semplice ragione, che, come dire, quella pensione magari bassa riesce a fare reddito familiare, quindi se lo tengono per questa ragione qui, ma quindi, come dire, sul socio sanitario per davvero è una partita enorme, copre il 70% del bilancio regionale, ma sappiamo anche che le dotazioni sono assolutamente insufficienti, quindi chiediamo insistentemente che le dotazioni aumentano, a Belluno abbiamo due ULS e forse sarebbe meglio cominciare a ragionare, non solo, come dire, sul fatto se dobbiamo fare un ULS sì, un ULS no, a me francamente non è, come dire, una discussione che mi appassiona, mi appassiona, come dire, l'intervento sanitario, socio sanitario che si fa sul territorio, sapendo che effettivamente sui piani alti, anche delle nostre ULS, forse un qualche accorpamento si può fare, perché lì abbiamo milioni di euro che vengono spesi, come dire, in posizioni di quadri, dirigenti, eccetera, che forse non servono e che potrebbero essere riversate tranquillamente sotto la base, dove magari aumenti le dotazioni proprio per l'esercizio socio sanitario. E lì però tocchiamo diritti acquisiti, posizioni acquisiti che difficilmente... Torniamo al punto di partenza, però io ogni tanto faccio qualche esempio. Siccome i cittadini immediatamente e giustamente si ramentano dei costi della politica, individuano nei costi della politica il Parlamento italiano, ho spiegato, come dire, che se andiamo a vedere quelli che sono i redditi, a partire, come dire, dal presidente dell'Inps di Belluno e moltiplichiamo fino giù a Catania, di Parlamento ne abbiamo a centinaia. Ecco, cioè bisognerebbe, se parliamo di tutte le società partecipate, che sono decine e centinaia, dove continuiamo, come dire, a pagare, presidenti, consigli di amministrazione, pensi solo che sulle società partecipate o le società del trasporto pubblico, qui in Veneto ce ne sono 39, ne servono 39, forse magari possiamo arrivare a 38 o no, e manteniamo comunque il trasporto pubblico locale, magari risparmiamo qualcosa. Infatti, prendiamo questo discorso qua. Infatti, nonno, se voglio presentire anche Vicenza, il segretario Gino, un attimo solo di pubblicità, forse secondi, poi torniamo insieme. Grazie. 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 Grazie.